Un giovane medico argentino che ha chiesto la cittadinanza italiana qui nel nostro comune a San Lucido ha effettuato un intervento con una manovra salvavita nei confronti di un cittadino salucidano salvandogli appunto la vita. Gli siamo grati come comunità, questa comunità che ha accolto tutti gli argentini, che accoglie tutti coloro i quali vengono dall'estero per chiedere la cittadinanza, non solo diventa accogliente ma integra queste persone che poi arricchiscono la stessa comunità salucidana. In qualità di primo cittadino della comunità di San Lucido e in nome per conto dell'istituzione con l'onore di rappresentare, desidero esprimere della più profonda gratitudine da parte di tutta la cittadinanza e mio personale per il suo esemplare altruistico gesto con cui intervento con lucidità e prontenza professionalità, ha prestato soccorso al nostro cittadino salvandogli la vita. Un'azione di arrivato valore civile e di grande altruismo, che deve essere preso in esempio in virtù dei valori di solidarietà e senso civico su cui si fonda la nostra Repubblica. L'occasione di accredita per benestendamento seglarla dalla Residenza Comunale 5 gennaio 2023, a firma del sottoscritto in qualità di sindaco di questa comunità. e questo è per il dottor Novano.